Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi lunedì 11 marzo. Vi ricordo che questa sera ci sarà Quarta Repubblica, dunque non mancate. Ovviamente parleremo di questo grande pasticcio della TAV e dell'avvocato a Zecca Garbugli che non si riesce a capire come riesca alla fine mettere tutti quanti d'accordo. Vediamo qua se siamo a posto. Sì, siamo a posto. Fantastica questa Italia. Allora, il motivo però per il quale dobbiamo aprire questa rassegna stampa ovviamente è quello che riguarda l'evento della giornata. È un al giornale con un solo titolo, La strage dei buoni. Intanto vedo Pietro che si è collegato, Bibiana che si sono collegati, buongiorno. La strage dei buoni. Se il giornale e Repubblica fanno lo stesso titolo vuol dire che insomma c'è poca fantasia o che comunque ovviamente questi volontari, otto italiani che sono morti, hanno perso la vita in un volo in Etiopia e erano tutti volontari, insomma ha colpito l'immaginario e comunque lo stesso segno chiunque, indipendentemente dalle proprie, diciamo, idee politiche. Il punto fondamentale è che qui noi non stiamo a fare ovviamente la cronaca politica su una roba che ci interessa poco, anzi quei pezzi là sui buoni che muoiono, quelli che siano dedicati agli altri, pezzi da Concitta de Gregorio, secondo me anche se fosse morto un cattivo ci sarebbe dispiaciuto ovviamente perché non si muore un suo disoncattivo su un volo ad Addis Abeba con un aereo relativamente nuovo, anzi nuovissimo, è una tragedia che colpisce l'immaginario di tutti quanti noi che gli aerei li prendiamo. Andiamo dunque sui fatti di questa vicenda, sono morte 8 persone italiane, 157 persone dopo pochi minuti dal decollo. La compagnia aerea Ethiopian Airlines, ci sono due interpretazioni, la prima è quella del Corriere della Sera e di altri giornali che si tratta di una delle compagnie meglio gestite africane, 10 milioni di passeggeri, semi privatizzata, un tempo orgoglio dell'Etiopia marxista, oggi, buongiorno a Vincenzo, insomma è una delle migliori compagnie aeree africane. Dall'altra parte però leggo sul giornale che si tratta di una compagnia che negli ultimi 30 anni ha avuto 59 incidenti e quindi in realtà sarà anche la migliore compagnia africana però, come dice il Corriere della Sera, è una di quelle compagnie che statisticamente, visti i passeggeri trasportati, comunque qualche incidente ce l'ha. L'altra grande questione che è quella che vi devo dire, dopo i morti ovviamente è la questione fondamentale, è come è possibile che un aereo nuovo, non si tratta di una carretta dei cieli come si viene definito, non è uno di quei vecchi, vi ricordate, aerei russi su cui ti fai il segno della croce prima di salire e lo fai soprattutto quando atterri perché devi ringraziare il buon Dio che sei riuscito ad atterrare da qualche parte vivo, sano e vivo. Ma questo è un aereo della Boeing che è stato messo relativamente nuovo, un vecchio progetto, mi sembra, del 1964 che è stato completamente cambiato, il 737 MAX, così si chiama mi sembra, che ha dato in 5 mesi due incidenti mortali, quello in Indonesia e questo in Etiopia. Ecco, io su questo trovo che ci sia forse un margine di indagine perché la grande, fantastica corporation americana Boeing in realtà due incidenti mortali su due aereo in cui è cambiato una cosa che i piloti dicono essere molto grave con una specie di software, beh insomma c'è materia per un grande giallo internazionale su una delle più grandi compagnie. Vedo Chiara Giannini che si è collegata, ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio e andiamo avanti sulle notizie di giornata, anzi no, andiamo sulle notizie di giornata. Secondo elemento di giornata ovviamente è la questione della tavola, ne parleremo anche stasera a Quarta Repubblica, il concetto è molto semplice, chi ha vinto? Boh! Voi l'avete capito? Beh il Corriere della Sera forse fa il pezzo migliore oggi, domanda e risposta su tutti gli elementi di questo rinvio della tavola, che non è un rinvio perché era previsto dal contratto ed era previsto dal codice degli appalti francesi che ci fossero questi inviti a partecipare alla gara durati sei mesi. Si tratta, ve lo dico francamente, della zecca Carbugli, cioè la grande figura italiana dell'avvocato, neanche un principe del foro, dell'avvocato di Foggia, nulla voglio togliere a Foggia anche perché io sono da due minuti da là, del medio avvocato italiano che si è trovato a fare presente il Consiglio che come da medio avvocato italiano manda un po' avanti il processo, precisamente esattamente la figura di merda, di un'Italia di merda dal mio punto di vista. Detto questo abbiamo salvato Capra e Cavoli, abbiamo salvato l'eventuale colpevole, cioè il Movimento 5 Stelle e l'eventuale innocente che è il governo italiano, il paese italiano, i cittadini italiani che non riescono a capire perché, come scrive bene oggi alcuni giornali, dopo sette trattati, quattro trattati internazionali, due leggi nazionali, arriva uno con la pennina come Toninelli oggi intervistato dal fatto quotidiano che ci dice in maniera direi anche in quel caso out of the blue che hanno semplicemente comprato tempo, con una pennina cancellano tutte queste norme, se questo è un paese democratico, beh ditemi voi come si può far sì che qualcuno abbia fiducia in noi nel rispetto dei nostri contatti fatti nel passato, ciò che disse il buon Tria. Ha vinto la Lega, ha perso il Movimento 5 Stelle, hanno vinto entrambi i partiti perché entrambi i partiti parlano del loro elettorato, la Lega dice vedi che noi siamo pro business, il Movimento 5 Stelle vedete che noi siamo contro la banda del buco? Tesi del loro portavoce travaglio sul fatto l'Italia che pensa di fare la furba, questo dice Silvia ed è quello che noi per l'ennesima volta facciamo. Poi dopo vai a vedere il Corriere della Sera, oggi il Corriere della Sera vedi il pezzo di mieli che io non cito mai perché in genere scusatemi mi sono un attimo addormentato, ecco vai a leggere il pezzo di vai a leggere il pezzo di mieli, scusate c'è una roba che non riesco a stare sveglio, vai a leggere quel pezzo in cui del Corriere della Sera in cui dice andiamo a elezioni anticipate, no, no, io la trovo fantastica, oggi io leggo il Corriere della Sera che dice nel suo fondo di andare a elezioni anticipate, cioè che questi ti fanno talmente schifo che si deve andare a elezioni anticipate, e chi vince Zingaretti secondo voi? Chi vince Berlusconi secondo voi? Cioè le elezioni anticipate che cosa otteniamo? Io la trovo fantastica, quando leggi questi pezzi in cui tu dici ma questi vivono, hanno, cioè fuori dai cinque amici di Settembrini e del premio Strega, sanno che cosa sta succedendo, cioè noi oggi abbiamo risolto il problema con le elezioni anticipate, può essere, può essere, per carità, se questi non dovessero continuare a trovare il compromesso di schifo come nel caso della Tava probabilmente sarà l'unica soluzione, auspicarla non so se è il tema, però oggi il maître a pensè della giornata, la donna che più di tutte ci ha fatto capire cosa succede nell'Italia che conta è la Trevisan, che ho avuto anch'io mi sembra ospite qualche volta a Matrix, una ragazza che ha iniziato la sua dura carriera a Nonela Rai ed è finita denunciando il Me Too che poi mi sembra che non ci sia stato all'italiana, beh oggi voi leggete questa intervista di Candida Morvillo che peraltro un'ottima collega oggi fa una pagina intera, scusatemi era di Minoli, scusatemi, oggi veramente li cito uno dietro l'altro, già so stanco che stasera devo fare Quarta Repubblica, ma Minoli e Miedi nello stesso giornale, oddio, vabbè allora e cosa succede? Trevisan gli fa una domanda la Candida Morvillo dice no 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 non mi permetterei e poi scrive e poi dice non mi permetterei, ha una domanda banale, non banale perché sia banale giornalista ma perché non è una domanda particolarmente diciamo offensiva e la come si chiama la Trevisan ci spiega non apprezzo le persone che istigano alla violenza, inteso come Salvini. Allora voi mi dovete spiegare una cosa, una cavolo dei subret di attrice, di cantante, di giornalista, di premio Nobel può dire che Salvini istiga alla violenza, io ve lo chiedo perché allora vale tutto, vale tutto, se in questo paese la Trevisan dice che Salvini istiga la violenza è una di quelle robe che se io fossi Salvini le direi scusami ma tu hai visto cosa ha fatto, come si chiama Vauro, quella pistola così all'indietro che mi spara un colpo in testa, quello forse se vuoi lo puoi dire come io penso che sia satira e la satira fa piace o non piace ma è satira, ma una donna può dire che Salvini istiga la violenza, io lo voglio sapere, perché allora vale tutto, vale tutto, poi dopo ci leggiamo, dopo questa specie di intervista in cui gli chiede ma Salvini viene consigliato un bell'uomo e lei dice ma che bell'uomo, cioè una bella intervista del Corriere della Sera che perfetta no, complimenti alla, cioè se le faccio io o le fa il giornale va bene no, se le facciamo noi, ma Corriere della Sera già me da Mieli, poi Minoli, poi me leggo pure che Salvini è un bell'uomo e che quella risponde si è bello o non è bello e poi gli dice che istiga la violenza, vabbè, andiamo avanti così, per fortuna che il Corriere ci salva come tutti lunedì con la Gabanelli che ci spiega, Franca, effettivamente Trevisan chi, Trevisan era una di quelle ragazze della Noem Rarai che oggi fa un'intervista, come si dice nella pagina nobile, cioè nella pagina di destra del Corriere della Sera che ci spiega il suo punto di vista su Salvini perché Salvini diceva che aveva il posto della Trevisan quando era ragazzino in camera, come molti ragazzini perché faceva parte di Noem Rarai, comunque nel Corriere della Borghesia italiana cosa vediamo? Vediamo che la Gabanelli ci spiega che dobbiamo fare la decrescita felice, perché questo vuol dire quando si dice che noi non possiamo vivere e sopportare la nostra vita perché ci vorrebbero due pianeti e dobbiamo riciclare, l'Italia c'è un'economia circolare che vale solo il 9%, quindi questa penna poi quando è finita la devo mettere là che mi serve a fare un'altra cosa, questo telefonino c'è l'absolescenza, esattamente la tesi che oggi leggo sul fatto, altro bellissimo pezzo di catastrofismo ambientale in cui mi spiegano che, ve lo dico, che il clima nei prossimi 30 anni, non 200 anni farà sì che in Italia sarà un disastro, che non conviene comprare gli appartamenti ai piani bassi perché verremo allagati, perché finirà tutto il mondo, benissimo, la sicurezza con cui loro possono dire che avverranno queste cose su 30 anni è una sicurezza non scientifica, non si può dire che cosa succederà tra 30 anni, il catastrofismo ambientale è la nuova religione, per cui io sarò criticatissimo perché domani mattina c'è il Po senza acqua e dicono vedi Porro ma c'è il Po senza acqua, non succedeva 30 anni, appunto 30 anni fa è così, ma vedi che cosa è successo nella sala per Portofino, l'hanno buttata giù, vedi che cosa è successo nei cicloni in America che continuano ad aumentare, tutte cazzate, tutta follia, in America i cicloni sono diminuiti rispetto agli ultimi 50 anni secondo le ricerche internazionali e americane sull'esistenza di fenomeni catastrofici come i cicloni in America, però nel catastrofismo noi dobbiamo sguazzare perché se sguazziamo nel catastrofismo possiamo finalmente dire che la decrescita sarà felice, contenti loro, contenti tutti, io un po' meno, ma comunque il giornale della borghesia tra la Trevisana e il catastrofismo e il fatto quotidiano oggi ci fanno passare un bellissimo, anzi bruttissimo lunedì mattina, ma io invece vorrei sapere chi è questa Trevisana, allora è vero che pure le pulce hanno la tosse, non so se la pulce, ognuno può dire quello che gli pare, però quello che io dico è che stasera di catastrofismo non parleremo a Quarta Repubblica, se volete vedeteci, anzi no come se volete, vedeteci tutti quanti alle 21.30 su Rete4, la TAV, non solo la TAV, tanti altri temi che certamente vi interesseranno se vi interessa un pochino a questo paese, ciao!